Ben trovati, nuovo appuntamento con la rubrica in salute curato dalla dottoressa Elvira Serra. Oggi ritorneremo a parlare dei rischi cardiovascolari, quindi quali sono i fattori di rischio che più mettono a repentaglio la vita delle persone, dottoressa? Innanzitutto dobbiamo distinguere dei rischi modificabili e quelli immodificabili. Certamente i fattori di rischio immodificabili sono l'età, la familiarità, il sesso. Tutti gli altri fattori di rischio invece sono modificabili dalla tensione che noi poniamo al nostro corpo. E quali sono questi fattori di rischio? L'ipertensione arteriosa. Dobbiamo ricordare che anche la riduzione di 5 mmHg di pressione arteriosa riduce la possibilità di ammalarsi di insufficienza cardiaca. L'ipertensione non trattata porta danni al rene. L'ipertensione non trattata porta danni al cervello e quindi la nostra attenzione dovrebbe essere posta assolutamente rispetto ai controlli pressori, in particolare dopo una certa età, perché la pressione alta è una malattia della seconda età della vita. Quando un giovane ha la pressione alta vuol dire che ha una malattia, ma la maggior parte invece degli adulti è affetta da ipertensione cosiddetta essenziale, in quanto non ha una causa precisa ma viene proprio con gli anni, quindi per un invecchiamento del nostro organismo. E quindi l'ipertensione è un fattore di rischio. Controlliamola, automisuriamola, vanno bene questi piccoli apparecchietti che possiamo tenere anche a casa, che ci dicono se la nostra pressione è compresa tra un range di normalità. Poi l'obesità, caliamo di peso, l'attività fisica è molto importante perché sostituiamo massa grassa a massa magra, teniamo sotto controllo i grassi, i lipidi, i trigliceridi, il colesterolo, soprattutto il colesterolo cattivo, provocano danni gravissimi alle coronarie, alle arterie del cervello, alle carotidi, quindi attenzione ai grassi di natura animale. Poi ancora riduciamo il caffè, che non è un fattore di rischio strettamente riconosciuto, ma molto spesso si associa all'abuso di sigaretta. Il fumo di sigaretta fa male, fa male perché aumenta la pressione, fa male perché dà una vasocostruzione periferica, fa male poi perché provoca danni ai polmoni irreversibili. E il sistema cuore e polmoni è tutt'uno, quindi quello che fa il cuore lo sentono i polmoni, quello che fanno i polmoni lo sente il cuore. Il diabete mellito, controllate la vostra glicemia, ci sono i centri diabetologici, state attenti all'alimentazione, il diabete si cura benissimo a casa con la bilancia a fianco alla cucina, perché noi se sbagliamo la quantità di carboidrati che mangiamo nella giornata, purtroppo se abbiamo già il diabeto, se abbiamo una famiglia diabetica svilupperemo o in età giovanile o con gli anni il diabete mellito. Il diabete mellito purtroppo è un fattore di rischio che da solo può provocare l'infarto del miocardio. Voi dite ma perché tutti gli altri, tutti gli altri in genere si sommano insieme e quindi la somma quasi sicuramente da quello che si definisce rischio coronarico. Quindi rischio coronarico come so se io avrò un infarto tra dieci anni, lo posso immaginare? Sì lo posso immaginare perché faccio una somma di tutti i fattori di rischio che ho. Se sono iperteso, se sono obeso, se non faccio attività fisica, se fumo, se ho il colesterolo cattivo alto, se ho la glicemia alta, sicuramente io da qui a dieci anni avrò un infarto del miocardio. Ma qualcuno mi chiede, posso tornare indietro? Posso non avere l'infarto del miocardio? Certo che puoi, basta che tu elimini i fattori di rischio. Ora vi invito, se avete molte domande o alcune domande perché sono state chiamate in privato, vedrete che passerà il mio numero in sovrapposizione che è il 33 22 38 170, potete chiamarmi anche privatamente e io vi aiuterò a risolvere il vostro piccolo o grande problema nei limiti di quello che le linee guida e la scienza ci consentono. Arrivederci! Grazie! Grazie!